buongiorno e benvenuti sul canale fornog allora oggi volevo insieme a voi fare un tutorial semplice e facile per i non addetti ai lavori sul software Navigraph abbiamo fatto già precedentemente un tutorial sul Simbrief che è un altro strumento atto a fare il nostro piano di volo qui però su Navigraph in realtà non andiamo a fare un vero e proprio piano di volo ma andiamo semplicemente a creare la nostra rotta io personalmente lo preferisco rispetto al Simbrief che non ci dà la possibilità o meglio ce la dà ma dobbiamo essere proprio tecnici del settore di variare la nostra rotta qui invece noi la vediamo concretamente da subito mentre la costruiamo sarà anche molto interessante andare a vedere le carte che Navigraph ci dà tanto è vero che molto spesso su alcuni aerei ad esempio gli aerei di Phoenix per Flight Simulator Navigraph è implementato e possiamo addirittura dall'aereo andarci a vedere le carte che ci interessano tengo a previsare che non sono un pilota non sono un addetto ai lavori ma semplicemente un amante della simulazione di volo quindi mi diverto semplicemente a volare con Flight Simulator chiaramente Navigraph può essere utilizzato anche su X-Plane quindi diciamo che è molti piattaforma perché in realtà serve esclusivamente a creare la nostra rotta una volta scaricato Navigraph e installato se volete ci scrivete nei commenti anche il tutorial del download e dell'installazione di Navigraph ma non è complicato per cui se volete lo facciamo altrimenti potete tranquillamente installarlo da soli e vi apparirà a questa schermata una volta che appare questa schermata noi come prima cosa iniziale a parte il il settings chiaramente in cui bisognerà fare il login che avrete fatto quando quando siete entrati nel sito di Navigraph dovrete cliccare su Flight su Flight adesso voi vedete qua diverse diverse flight fatti però da me e chiaramente voi l'avrete pulito la prima volta non avete niente qui sotto e cliccare su New Flight a questo punto ci si apre questa finestra questa finestra che ci chiede sostanzialmente qual è l'aeroporto di origine e qual è l'aeroporto di destinazione in realtà ci chiede anche l'aeroporto alternato ma questo poi lo vediamo con calma l'aeroporto di origine bene noi abbiamo diverse possibilità per inserire l'aeroporto di origine facciamo select e ci si avverrà sostanzialmente un search che cosa dobbiamo scrivere qui dobbiamo scrivere appunto l'aeroporto di origine e possiamo scrivere in diversi modi faccio un esempio io vorrei partire oggi da capo di chino quindi da che è l'aeroporto di napoli possiamo scrivere o naples perché in inglese ecco qua sotto che naples c'è anche gli stati uniti e sono questi l'aeroporto strumenti però c'è scritto qua united states oppure in italy è capo di chino lirn oppure possiamo se sappiamo dove si trova geograficamente l'aeroporto andare qui e andare a cercare capo di chino eccolo qui ok e andare cliccare sopra l'aeroporto capo di chino ci si apre questo pop up facciamo aggiungere la rotta origine o destinazione o fix scegliere dove vogliamo inserire l'aeroporto quindi se come l'aeroporto origine di destinazione e fare aggiungi oppure un altro modo è cercare direttamente l'aeroporto di capo di chino sapendo come si chiama il codice icao che nello specifico è lirn eccolo qui che immediatamente ci appare se non conosciamo il codice icao dell'aeroporto beh è abbastanza semplice basta andare su google scrivere icao napoli per esempio invio ed ecco qua che ci dà il codice icao come lirn eccolo qui e possiamo inserirlo quindi abbiamo queste modalità per poter inserire il nostro aeroporto una cosa a cui tengo a precisare questa ricerca che è fatta in inglese chiaramente è una ricerca dove più andiamo nello specifico più chiaramente ci trova subito l'aeroporto più saremo diciamo così ampi come dice che più ce ne troverà tanti facciamo un esempio capo di chino a napoli è l'unico se noi scriviamo rome per esempio e andiamo nella parte ricordante d'italia per esempio possiamo vedere che ci abbiamo fiumicino ciampino ed urbe qui ci ha trovato tutti gli aeroporti di roma ok immettino ci troviamo l'aeroporto star romano non mi ricordo il nome comunque ci arriviamo in questo modo mettiamo capo di chino quindi mettiamo lirn lo aggiungiamo ecco qui che ci viene aggiunto come punto di origine capo di chino adesso andiamo a inserire l'aeroporto di arrivo facciamo l'esempio vogliamo inserire milano allora andremo qua select destination milan e ci appaiono gli aeroporti di milano che sono malpensa linate e bresso io vorrei partire da malpensa quindi aggiungo a pensare bene a questo punto già una cosa ci viene data con informazione ci viene data oltre queste informazioni qua che adesso analizzeremo insieme ci viene già detto che la distanza tra l'aeroporto di napoli e l'aeroporto di milano vista 375 miglia e se potessimo magicamente partire puff diciamo così dall'aeroporto come fosse un elicottero e atterrare a milano la rotta da seguire sarebbe una prova di 317 gradi a questo punto dopo che ho detto questa piccola chicca diciamo così per calcolare un attimo le istanze andiamo a vedere le piste disponibili rainwell rainway available su napoli allora possiamo tranquillamente zoomare la mappa di napoli l'aeroporto e andiamo a vedere che le piste disponibili sono sostanzialmente la 6 e la 24 ok la 24 che questa qua e la 6 questa qui andando a cliccare su select vedremo che la 6 in questo momento è sconsigliata meglio utilizzare la pista 4 aggiungiamo tanto è vero la pista 4 è in coda a quel punto aggiungiamo la pista 4 la nostra 24 scusami la nostra rotta e cerchiamo di trovare la partenza abbiamo 29 partenze in nell'aeroporto noi dobbiamo sostanzialmente trovare la partenza più adatta la nostra possiamo cercarlo in questo modo quindi possiamo fare questo tipo di lavoro andare su ognuna di queste partenze e vedere quella che ci garba di più ma non ci deve garbare deve essere una partenza intelligente cioè ricordiamoci che noi specie in fase di decollo perché poi mi contraddirò nella fase di arrivo qua noi scegliamo la via più breve ok che mi sembra proprio essere questa cioè dall'aeroporto si decolla ok si decolla e subito ci dirigiamo a nord verso l'aeroporto quindi cliccando da qua ci viene segnata subito qual è la rotta abbiamo scelto o possiamo fare gli inverso e cliccare noi direttamente qua e ci viene segnalata a quel punto sulla mappa la rotta abbiamo scelto la partenza abbiamo scelto qui aggiungiamo la rotta ecco qua che il nostro simbrief scusami navigraph ha cominciato a crearci la nostra rotta con le varie seed e le varie star a questo punto andiamo sull'aeroporto di arrivo andiamo a vedere quali sono le piste label utilizzabili e sorpresa delle sorprese possiamo notare che all'aeroporto di milano abbiamo a disposizione solo una pista la 17l e a 7r e la 35l sono not used quindi sono chiuse ci rimane soltanto aperta 35r e quindi mi sembra abbastanza diciamo obbligatorio prendere questa questa pista i venti sono favorevoli aggiungiamo la rotta o anche qua dobbiamo selezionare sia la rival che l'approccio io comincio sempre dall'approccio perché mi rendo meglio conto di di quale sarà diciamo il tipo di approccio da fare abbiamo l'approccio ls abbiamo l'approccio vor e lock sono non entro nello specifico se utilizzate degli aerei di linea per esempio il 320 piuttosto che il 777 e via dicendo sicuramente quindi sono equipaggiati con l ls ma anche l'incitation sono equipaggiati con l ls andremo sicuramente a scegliere un ls io preferisco sempre in fase di atterraggio prendermi diciamo tra virgolette l'approccio più distante in maniera tale da poter utilizzare diciamo al meglio le funzioni dell'aereo potermi preparare meglio alla fase di atterraggio e quindi avere più tempo e quindi io mi prendo sempre quelli più lontani qua chiaramente possiamo scegliere se utilizzare la transition healer o la transition final la final è semplicemente detta in maniera molto blanda più lunga della final quindi a provare un discorso e mi prendo il mio tempo io userò la inter ecco qui quindi a questo punto navigraph ci ha inserito anche questa andiamo a cercare l'arrival l'arrival queste che vedete sono tutte le arriva e l'arrival per la pista rv 35r poi dopo dopo tutte queste qui che voi vedete da monitor ci saranno anche possibilità di scegliere tutte le altre che però sono per le altre piste quindi diciamo che in questa fase non diciamo non è indicato andarli a vedere la andiamo a cliccare quelle che diciamo reputiamo essere le più idonee per noi e andiamo a scegliere quelle più idonee allora che differenza c'è tra questa che come vedete fa uno zig zag e questa che sostanzialmente non lo fa quello che dicevo prima cioè se io per qualche motivo per qualche errore ok mio di ruotaggio arrivo a nei pressi dell'aeroporto di milano alto io qua avrò tutto il tempo tutto il tempo per andare a intercettare l'ils alla quota stabilita se invece dovessi usare una per esempio un arrivo ancora più diretto tipo tipo questo e io non ho tutto questo tempo mi devo sbrigare a scendere quindi siccome ricordo tutti che noi spesso e volentieri per nostro diletto andiamo a pilotare aeree che di solito si pilotano in due persone noi siamo da soli quindi dobbiamo fare tutto da soli io mi prendo anche in questo caso il mio tempo nonostante la compagnia aerea non sia contenta ecco qui non sia contenta perché più carburante no ecco qui che stiamo abbiamo fatto il calcolo anche dell'arrival e sostanzialmente navigraph ha finito la nostra rotta che cosa possiamo farci con questa rotta perché in realtà noi utilizziamo anche simbrief per fare il piano di volo no per cui cosa andiamo a fare con questa rotta beh andiamo a fare l'export andiamo a farci il copy to clipboard e andiamo per esempio sul nostro simbrief andiamo a mettere l'aeroporto di partenza sempre andiamo a mettere l'aeroporto di arrivo obbligatorio andiamo a scegliere un aereo prendiamo un 320 così almeno siamo tutti tranquilli lui ci suggerisce questa rotta e noi invece gli suggeriamo quest'altra facciamo che analizziamo la rotta ci dice la rotta è coerente non c'è problema eccola qui che possiamo sostanzialmente vedere che la nostra rotta è simile ok cioè simile è la stessa non è che simile è la stessa che noi abbiamo calcolato per con navigraph ok basta simbrief torniamo su navigraph allora perché navigraph è così importante è così importante perché lo dice proprio il nome del 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 software si chiama navigraph cards navigraph cards ci dà tutte le carte aeronautiche chiaramente di tutto quello che noi andremo a fare e questo è fondamentale facciamo un esempio banale un esempio banale sull'aeroporto di napoli va bene noi ci troviamo allo stand per esempio 40 anzi o 13 ok dobbiamo come abbiamo scritto decollare alla pista 24 che è questa qui e sostanzialmente noi potremmo fare al porto ci troviamo subito a napoli andiamo sulle cartine andiamo sulla taxi per esempio ok qua troviamo i parcheggi quindi le cartine dei nostri parcheggi e qua ci troviamo il nostro aeroporto quindi quello che a noi può interessare di questo di questo software è proprio la parte delle cartine quella che ci interessa di più perché noi stiamo alla 13 quindi stiamo qua e la torre ci dirà guarda si percorri la via di rullaggio per e noi non facciamo altro che andarci a mezzare con la cartina e vedere quali saranno le vie di rullaggio che dobbiamo prendere per arrivare alla pista 24 ad esempio ci dice la torre che dobbiamo entrare per avere rullaggio E e noi sapremo che la E sta qui quindi questo diciamo è una parte importante se vogliamo torniamo al volo chiudiamo qua se per esempio vogliamo andare a vedere l'ILS X questa questa la fase di di atterraggio con l'ILS potremmo cliccare qui open cart ed ecco qui che ci viene detta la fase quindi per esempio sempre a TODGU dovremmo stare a 3000 piedi di altezza no questa è importante è la parte più importante anche per certi versi anche più divertente della simulazione di volo quindi questo è il motivo per cui io utilizzo il Navigraf proprio per queste licenze arriviamo a Milano ci viene detto a Milano dovete arrivare che posso dire allo stand numero X bene taxi andiamo a vederci un attimino all'aeroporto come è fatto ok quindi anzi a maggior ragione noi stiamo atterrando sulla 35R qui dovremmo sapere che fase di atterraggio per esempio usciamo al via rullaggio E e poi ci verrà detto magari per arrivare per arrivare al 714 dico per dire allo stand 714 noi dovremo percorrere la via rullaggio E la C la DE la DA ok e poi chiaramente per esempio andare per parcheggiare qua giù tutte le altre vie K per esempio e quindi arrivare alla allo stand destinato cioè queste sono tutte cose importanti poi se invece prendo sempre Milano la notte uguale se invece noi abbiamo non una pista ILS ma un VOR per esempio ci andiamo a prendere le cartine del VOR ok quindi è importante qua per esempio ci viene detto nella cartina qual è l'MDA l'MDA è la Minimum Descent Altitude cioè l'altitudine minima in cui devi vedere l'aeroporto se tu non hai a vista l'aeroporto o le luci dell'aeroporto se di notte ha 1200 piedi tu devi attaccare non ci sono altre possibilità cosa non presento invece su ILS perché l'ILS è il computer che ti porta sostanzialmente fino a terra anche se nell'ILS ci sono delle MDA comunque detto questo io spero che questo piccolo video di Navigraf Cards vi sia piaciuto e vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento sul nostro canale e alla prossima grazie grazie a tutti Grazie a tutti.